Ma io parlerei più di opportunità che di criticità in una consapevolezza che oggi va visto a tutte quelle risorse in maniera trasversale. Mi sembra che sia emerso nell'incontro anche di oggi come il ruolo delle regioni sia centrale. Guardare alle risorse, io faccio l'assessore al bilancio in maniera trasversale, quindi non solo PNRR, ma parliamo di fondi di coesione, di fondi complementari. Quindi mettere insieme tutte queste risorse per calare a terra quei progetti infrastrutturali dei nostri territori che sono fondamentali per quelle due transizioni di cui parliamo sempre, la transizione digitale e la transizione green. A me piace anche per sottolineare quell'aspetto di coesione sociale che oggi è emerso in maniera forte in questa conferenza delle regioni, dove abbiamo parlato di regioni, ma non più solo come sud e nord, ma anche come aree interne. Abbiamo davanti una grande stagione di opportunità che può fare di questo territorio un territorio connesso, un territorio unito, lo può fare all'interno delle stesse regioni. Sappiamo che quelle risorse sono fondamentali e le dobbiamo spendere al meglio.